Domenica e lunedì gli elettori di carro hanno la possibilità di voltare pagina e riscrivere una nuova storia. Chi è di destra non può avere dubbi sul votare per la lista della fiamma tricolore, tuttavia anche chi è di altri orientamenti troverà nella lista persone indipendenti, cattolici, liberali, come il capolista Livio Orlando Grazzini, non iscritto alla fiamma, ma che ha scelto di scendere in campo con noi perché ha trovato nel nostro programma tanta concretezza al servizio della Valdivara. Ho una seconda casa in Valdivara e frequento carro fin da quando ero bambino. In tutto questo tempo e ho 57 anni l'unico cambiamento che ho notato è lo spopolamento e l'assenza di visione delle varie amministrazioni che si sono succedute. Come lista della fiamma tricolore vogliamo istituire un servizio di consegna a domicilio dei farmaci e della spesa rivolto agli anziani e i più bisognosi e come amministrazione comunale incentivare la nascita di una cooperativa di lavoro che crea occupazione valorizzando il territorio sul modello dei piccoli comuni più virtuosi. L'impegno che assumo con gli elettori è quello di garantire entro i primi 100 giorni di mandato una presenza medica qualificata nel capoluogo e nelle frazioni. Come vedete sono ricette di buonsenso che chiunque potrebbe mettere in pratica ma che con evidenza le passate amministrazioni e gli uomini di ieri che si ripropongono oggi agli elettori non hanno saputo portare avanti. Gli elettori di Carlo hanno già provato DC e CVC di centro-sinistra che a questo giro si ripresentano al vuoto dicendosi di centro-destra ma tutte queste formule politiche sono sempre le stesse e sono quelle che hanno portato alla situazione attuale il territorio di Carlo che è magnifico ma poco pubblicizzato e privo anche dei servizi più essenziali. Possiamo attrarre i fondi europei e nazionali per far diventare Carlo ciò che sono già gli altri piccoli comuni liguri gestiti da amministrazioni più avvedute. Questi fondi non sono nuovi c'erano anche prima ma i vecchi amministratori sia di maggioranza che di opposizione non li hanno saputi portare a Carlo. Noi siamo la novità è l'unico cambiamento possibile e disponiamo tangibilmente delle competenze per far risorgere Carlo e le sue magnifiche frazioni. L'appello è comunque quello di andare a votare perché l'esercizio democratico va compiuto da tutti con coscienza e responsabilità.